Siamo con l'onorevole Chetty Fogliani. Buonasera a tutti, parliamo in questo momento di autonomia. L'autonomia che è tanto richiesta e tanto voluta dal nostro governatore Luca Zaia e dai tutti più di 2000 elettori veneti che sono andati a votare per il referendum il 22 ottobre del 2017 e che sono ancora in attesa di una risposta. Abbiamo lavorato quando eravamo nel governo giallo-verde per portare a casa un risultato, sono stati fatti tantissimi incontri con la nostra ministra, allora ministra Erika Stefani per riuscire a chiudere quella parte del contratto con 5 Stelle che prevedeva la parte dell'autonomia ma purtroppo mentre noi abbiamo rispettato i patti su tutti gli altri argomenti che erano stati voluti da 5 Stelle, loro su questo punto non ne hanno voluto sapere. Hanno tirato lungo, l'hanno gestita in modo anche poco elegante perché fare tutti quegli incontri sui vari temi, con i vari ministri senza riuscire ad arrivare a nessun risultato. Conte aveva promesso ancora a inizio 2019 che saremmo arrivati a una conclusione e siamo ancora qui, siamo ancora qui in attesa di avere delle risposte. Adesso il ministro Boccia ha garantito che riusciremo a fare passi avanti ma ancora non abbiamo niente di concreto. Noi confidiamo presto di riuscire ad andare comunque avanti con la pena di salari eletto il nostro governatore Luca Zaia. Grazie.